Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Mentre si sta correndo proprio in questi minuti sul GP di Portimao L'ultima weekend di questa stagione con la prima sessione di prove libere Mark Marquez purtroppo sta correndo una gara che noi non vorremmo mai Purtroppo a vederlo parteciper, noi lo vorremmo sempre in pista A deliziarci con le sue magie Mark Marquez sta correndo contro lo spettro di una possibile terza operazione Se ne sta parlando purtroppo negli ultimi giorni Sarebbe veramente una situazione clamorosa Una conclusione di un'annata orribile per il campione spagnolo Quindi rientro in pista del campione del mondo spagnolo Sarebbe veramente non prossimo ma molto molto lontano nel tempo Lo spettro terza operazione si fa veramente molto molto ingombrante Alle spalle del pilota spagnolo La sua degenza dopo la seconda operazione non starebbe procedendo nel verso giusto Purtroppo il campione del mondo Mark Marquez non sta guarendo Ha ancora tantissimo dolore alla spalla destra E quindi l'equip medica che lo sta curando Avrebbe paventato una possibile terza operazione Nel caso in cui dovesse arrivare questa terza operazione Che non è ripeto un'operazione molto semplice E tra poco ne vado a spiegare Cercherò di spiegarla nel modo più semplice possibile Nel caso in cui dovesse arrivare l'ufficialità nei prossimi giorni di una terza operazione per Mark Marquez Mark Marquez sarebbe fuori completamente dai giochi nella prossima stagione Non lo vedremo neanche partecipare Perché i tempi sono molto lunghi Perché la terza operazione scongiurerebbe un problema che nel caso diventasse reale Fosse quasi proibitivo per la carriera intera di Mark Marquez E quindi veramente anche Honda Per questo ne abbiamo parlato nei video precedenti Starebbe pensando anche ad un piano B Perché Mark Marquez non è sicuro Non è sicuro la sua partecipazione Alla ghia di partenza del prossimo mondiale 2021 Il rientro in pista quindi sembra allontanarsi sempre di più Anche se Mark Marquez poche settimane fa Lo ricorderete sui social Aveva annunciato in maniera raggiante Il suo rientro in pista nella prossima stagione Quindi nel 2021 Purtroppo la sua equipe medica starebbe per dare al mondo intero Una pessima notizia riguardante appunto Mark Marquez E la sua terza operazione che diventerebbe necessaria Quindi non c'è ancora l'ufficialità da parte di Honda Da parte di Marquez stesso Però nei prossimi giorni dovrebbe diventare tutto ciò Potrebbe diventare tutto ciò molto molto probabile Quindi se ne sta parlando Anche la redazione di Sky Sport MotoGP L'ha bollato come possibilità molto concreta Per il ragazzo spagnole Quindi staremmo veramente parlando di un Mark Marquez Ben lontano dal suo rientro in pista La terza operazione che ripeto Ancora una volta non sarà per nulla semplice Non è un'operazione di routine Ma è un'operazione molto molto complicata Ed è per questo che molte persone hanno anche paura Per la carriera di Mark Marquez C'è chi vede in questa terza operazione Addirittura lo spettro di una possibile stroncatura Della carriera di Mark Marquez Proprio nel momento in cui questa carriera era più raggiante Era più luminosa Il suo rientro in pista a Jerez Quattro giorni dopo la sua prima operazione A questo punto lo possiamo bollare tranquillamente Come un grandissimo errore di valutazione Valutazione errata da parte dei medici Da parte di Marquez stesso Da parte di Honda E quindi veramente Allora Marquez Fece un errore di valutazione gigantesco Compromettendo non solo la sua prima operazione Ma a questo punto anche la degenza post seconda operazione Marquez che è notizia appunto Da parte di Sky Sport e MotoGP Avrebbe chiesto consiglio Nelle ultime settimane Negli ultimi mesi Avrebbe chiesto consiglio a tanti diverse Equipe mediche Quindi comunque anche Da questo si denota la preoccupazione Di Mark Marquez I medici avrebbero tutti Confermato la necessità di una terza operazione Questa notizia dovrebbe diventare ufficiale Nei prossimi giorni Noi speriamo sempre Che questa notizia non diventi ufficiale E che Mark Marquez recuperi il prima possibile Ma lo spettro di questa terza operazione Favingerata a questo punto Diventerebbe molto molto ingombrante E molto visibile a tutti quanti noi La terza operazione A livello tecnico Serve per scongiurare Una pseudo artrosi omerale cronica Nel caso in cui dovesse arrivare Questa pseudo artrosi Mark Marquez finirebbe Anzitempo la sua carriera Perché non ci sarebbe nessun modo Nessun possibile Nessun possibile recupero Dopo questa pseudo artrosi Quindi stiamo parlando veramente Di una situazione delicatissima Per il campione del mondo spagnolo Le complicazioni sono dovute Al fatto che l'omero destro A causa delle forti sollecitazioni A cui sono sottoposto Nel post operazione E dai tanti fori Causati dalle placche applicate Non riuscirebbe a calcificarsi Quindi veramente La situazione è complicatissima Ed è per questo che Mark Marquez Prova ancora tantissimo dolore In più Sembra anche compromessa La vascularizzazione Quindi veramente tutto Nel verso sbagliato Per quanto riguarda La situazione clinica Del pilota spagnolo La terza operazione Consisterebbe Nell'innesto osseo E di un midollo osseo Della cresta ilalica Del bacino Quindi veramente Si parlerebbe Di un'applicazione Di natura ossea Quindi di un'applicazione ossea Del midollo osseo Quindi stiamo parlando Veramente di una cosa Complicatissima Innesti ossei Per quanto riguarda Mark Marquez Un'operazione Che ovviamente Non è di routine Ma complicatissima E che porterebbe Mark Marquez Fuori per almeno Almeno sei mesi Quindi sicuramente Tutta la prossima stagione E bisogna vedere Come recupererà Poi nel caso Dovesse andare tutto bene Per la stagione del 2022 Quindi veramente Situazione complicatissima E per questo Che anche nei video scorsi Abbiamo parlato Di una possibilità Dovizioso Honda Perché Dovizioso Sarebbe il nome Appunto Designato da Honda Dopo il no Di Cal Cratchel Ufficiale Ufficiale come Tester Yamaha Appunto In sostituzione Di Mark Marquez Si starebbe parlando Di una sostituzione Ovviamente A tempore Quindi Con una bella Impressa Data di scadenza Quindi comunque Dovizioso Diventerebbe Pilota ufficiale Honda Ma con una data Di scadenza Cioè nel momento In cui rientra Appieno Mark Marquez Noi lo speriamo Il prima possibile Dovizioso Dovizioso dovrebbe Cedere il posto Al campione Del mondo spagnolo Oppure Si sarebbe parlando Di un Dovizioso Che in quel caso lì Passerebbe come Tester ufficiale Della Honda E in quel caso lì Assaltare Sarebbe la testa Di Stephen Brad Mark Marquez Rischia di saltare Quindi La prossima stagione Dovesse arrivare La terza operazione E Da questo punto Nessuno sa Come si presenterebbe Alla griglia di partenza Della stagione 2022 Io a questo punto Avevo promesso In conclusione Di questo video Nel video scorso Avevo parlato Di una domanda Che appunto Si fa In questo caso L'ho sentito Parlare anche Da molti giornalisti Da molti Personalità Di rilievo Sui social Ossia Mir Che ha vinto Questo mondiale Senza Mark Marquez Quindi con Mark Marquez Infortunato Sarebbe comunque Meritevole Del titolo Perché comunque Non stiamo parlando Del pilota Più veloce Sul tracciato Io a questo punto Rispondo Con un'altra provocazione Dovesse Mark Marquez Saltare Anche la prossima Stagione E dovesse Mir Rielaurearsi Campione del mondo Staremmo ancora parlando Di un titolo Tarocco Di un titolo Non meritato Beh Assolutamente no Mark Marquez Purtroppo Ha commesso Un errore di valutazione A Gerez Che lo ha Compromesso E ancora Sta pagando I postumi Di quel Gravissimo Errore di valutazione Però Anche Mir Lo ha detto In conferenza stampa Mark Marquez Non è stato rapito Non è stato tenuto fuori Mark Marquez Si è infortunato Ed è una cosa Che può capitare A chiunque di noi In pista E quindi Mir Penso abbia risposto Nel modo più semplice Possibile A chi Sta comunque Mettendo in dubbio Il suo titolo In ridato Ragazzi Questo era il report Su Mark Marquez Io vi rimando Ai miei prossimi video A partire da domenica Dove parleremo Dell'analisi post race Dell'ultimo Gran premio stagionale Parte già la lacrimuccia In questi casi Perché è l'ultimo Gran premio stagionale Ragazzi Io vi invito A mettere like Se questo video Vi è piaciuto Vi invito a commentare Fammi sapere la vostra Nello specifico Sono molto curioso Di sapere la vostra Sulla situazione Mark Marquez Vi invito A iscrivervi A questo canale Per non perdervi Nessun aggiornamento futuro Sui miei prossimi video Ragazzi Io vi saluto Ciao a tutti Da domenica versa Ciao a tutti raga Ciao a tutti